Uva, mele, ma anche castagne, bacche, mirtilli, kiwi e cachi e ancora melograno, nocciole, olive, produzione di olio e vino. Cremona con le sue 24 imprese nel settore agroalimentare ha fatto registrare un incremento del 4,3% in un anno con un salto in avanti dell'84,6% su 5 anni che la proiettano direttamente come la sesta provincia in Italia, come maggiore crescita e la prima lombarda. E' la coltivazione di uva a rappresentare il maggior business provinciale con le sue 7 imprese, seguita da quella di altri alberi da frutta, frutti da bosco, inguscio e la coltivazione di frutti oleosi. Cremona però si attesta penultima per numero totale di imprese. Per quanto riguarda il peso dei giovani, poi con le due imprese sulle 24 totali e una percentuale dell'8,3%, Cremona si attesta al terzo ultimo posto a livello regionale.